I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni indiretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81,17% e il 73,32% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading. Con il CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, il webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di TICMIL. TICMIL è un broker non di Ridesk con commissioni tra le più basse del settore e spread a partire da zero con regolamentazione FCA UK, fondi assicurati e segregati, separati dalla società. Tutte le strategie sono permesse, quindi non ci sono limitazioni sui profitti. Abbiamo oltre 10 server che garantiscono una velocità di esecuzione ultra rapida, oltre ad avere altri strumenti di ausilio al training come la Touch Artist, il TN3 Forex, la WPS, il One Quick Training e la demo illimitata. Non ci sono costi su prelevi e depositi e siamo tra i pochi broker ad offrire l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain e leggete qui sulla slide l'email e il sito dove potete reperire le varie informazioni. Questa è la mappa dei server di TICMIL, quindi oltre a quello di Londra, Nord Virginia e Tokyo ci sono poi quelli di backup. Questa è la tabella comparativa del sito che stiamo imparando a conoscere, MyFXBook. che è un sito che va a confrontare tra le altre cose gli spread dei vari broker rispetto appunto tra i vari broker del Forex, quindi potete notare voi stessi come gli spread delle commissioni di TICMIL siano sempre tra i più bassi del panorama Forex. Grazie a queste caratteristiche abbiamo effettuato nuovi record di volumi di trading sia nel mese di settembre che di ottobre e siamo stati premiati come miglior broker per esecuzione. Allora, metto via le slide e entriamo subito nel vivo dei progetti che sto portando avanti, che sto mostrando questi giorni. Visto che sono le 19, devo solo trovare la piattaforma giusta, ok, visto che sono le 19 devo andare a inserire gli ordini sul termometro Forex in H4, che è una strategia contraria, che ho spiegato diverse volte e attualmente questo conto dove sto appunto testando questa strategia in multi-time frame, dove sull'H4 vado in modalità contraria, sul daily vado in modalità trend following e sul grafico weekly vado in modalità trend following, ma seguo le indicazioni del cot report e questo mese comunque è in fase di drawdown e vediamo se sarà difficile recuperare questo importo per il mese di dicembre, però continuo con le varie analisi. Quindi adesso abbiamo debolezza sul dollaro, quindi io dovrei comprare ancora dollari in modalità contraria, ma non lo faccio perché ho già un'esposizione di 0,14, stessa cosa sulla sterlina perché ho già venduto la forza e attualmente il basket sterlina è in perdita sull'H4, poi vediamo se c'è qualche altra cosa, NZD, anche qui dovrei comprare NZD, ma ho già effettuato un ingresso, quindi le lascio così e non tocco nulla. Poi un breve aggiornamento sul sistema anche antigriglia, dove anche qui è in fase di drawdown il sistema, praticamente che cosa faccio? Vado a chiudere quelle posizioni che mi hanno in perdita, quindi stop loss, e lascio correre quelle in guadagno e attualmente si è creato questa situazione. Questi ordini non li inserisco io, però ne approfitto per presentarmi un po' l'expert, poi se qualcuno vuole provarlo perché è in versione beta, mi fa sapere o in chat oppure mi scrive poi sulla chat Telegram, che vi invito sempre a seguirla, ma credo che ci siate un po' tutti quelli della chat, però vi do comunque il link. ve l'ho inviato, ok. Allora, stiamo mettendo su insieme a Salvatore l'expert, e adesso questo expert praticamente entra al posto mio, io quindi poi devo solo gestire le posizioni, che è molto semplice perché vado praticamente a lasciarle correre, quindi in breakeven. Ovviamente come capita spesso in demo, funziona, sta andando bene, in real attualmente ancora no, però come funziona? Praticamente si dà una direzione, per farvi capire un po' la logica che segue, lasciamo qui, allora praticamente si dà una direzione, non so, facciamo un'analisi basata sul code report, quello che è, e quindi decidiamo magari di entrare sul primo pattern short, ok, perché adesso dall'analisi del code report, sull'euro dollaro, sull'euro, sono aumentate le net position short, quindi andiamo ad assecondare un po' questa situazione del code report, e quindi decido che la prima entrata deve essere short. Poi vado a suddividere le entrate, quindi inserisco tre entrate, quindi faccio, voglio aprire tre sell, e tre buy, perché tre buy? Perché queste tre buy serviranno per fare poi la copertura di questo sistema, quindi il sistema entra qui, con, va a inserire uno stop basato sulla volatilità, che può essere comunque cambiato dalle variabili esterne, e da qui poi inizia a gestire, a ragionare con le coperture, quindi adesso lo lascio girare, così poi passiamo un po' all'analisi retail, e quindi poi vediamo a fine webinar che cosa ha fatto, e commentiamo. Allora, andiamo un po' i retail, come sono messi, questa la chiudo perché, allora, ho troppe piattaforme che mi rallentano, Allora, e Autochartist è un po' pesante ultimamente. Ok, allora, vediamo un po', intanto quanti di voi stanno un po' utilizzando questa, diciamo, strategia di andare a trovare gli eccessi sui retail o il primo incrocio? No, perché questa, a differenza un po' delle altre, naturalmente sta andando molto bene. Allora, io direi che, se siete d'accordo, faccio una carrellata delle varie, dei vari cross, così facciamo un'analisi, e vediamo un po' se c'è una, se c'è la possibilità magari di entrare in una direzione, piuttosto che in un'altra. Allora, Euro-Dollaro, attualmente abbiamo le percentuali del 46% short e 53% long, quindi non abbiamo nessun tipo di indicazione utile. Vediamo. Allora, USDCHF, USDCHF abbiamo l'83% short. allora questa qui, che cosa ho fatto? Ho diversificato le due entrate, perché una è basata sull'eccesso dei rete, l'altra sul primo incrocio, però le ho deciso di dividerle per conti, per capire un po' come lavorano separatamente. quindi su USDCHF io ho deciso oggi di entrare long, perché? Perché su USDCHF c'è stato il primo incrocio delle posizioni in questa situazione, ok, quindi c'è stata questa ondata rialzista di diverse candele, per poi le posizioni quindi si sono allargate, arrivando oltre, ben oltre il 60% che è la soglia minima per cercare un'entrata long, e sono entrato in questa zona, quindi con lo stop sotto proprio il minimo, cioè che sarebbe poi il minimo dell'incrocio, dato dalle posizioni, quindi vado a mettermi sull'incrocio, sostanzialmente è in area 0,98 e 61, e questa entrata l'ho fatta in modalità trend following, quindi attualmente ovviamente non sta pagando, come vedete dall'immagine, però serve per avere un po' una statistica, se questa modalità funziona oppure no sul lungo periodo. Ok, allora andiamo invece alla sterlina, la sterlina anche qui vedete in una fase di primo incrocio, quindi se dovessero arrivare al 60% le posizioni su sterlina, allora inizio a mettere un po' l'alert per entrare eventualmente long su questo cambio, però per il momento ancora non c'è una posizione netta sulla sterlina. Allora su USD Yen, allora USD Yen è l'89%, allora USD Yen non è malvagio come entrata, però siccome è lontana dalle bollinger esterne, io questa USD Yen la voglio fare in modalità rialzista, per vedere se si va a riprendere i massimi. Allora, poi l'incrocio delle posizioni c'è stata in questa zona, quindi lo stop lo vado a piazzare qui sotto, e il target sarebbe a 30 pips, però non lo metto perché voglio vedere se poi dà una spinta rialzista oppure no. Quindi su USD Yen si è creata un po' questa situazione, non la faccio in eccesso, perché anche se siamo oltre l'80%, però io l'eccesso un po' come avevo fatto vedere nel precedente webinar, la voglio trovare nella situazione in cui le bollinger, si trova in una situazione sulle bollinger esterne, quindi non so, se fossero state il 90% il prezzo si fosse trovato in questa situazione, sicuramente avrei venduto USD Yen. Allora, USD CAD, USD CAD è stato un caso studio molto bello, perché so quanti di voi si ricordano, però su USD CAD avevamo una situazione estrema da questa situazione, siamo arrivati prima, qui eravamo intorno all'85%, e io l'ho inserito anche sul conto più grosso, dove è USD CAD? vedete, io l'avevo inserito un ordine sell in quest'area, sbagliando perché non era sulle bollinger esterne, poi ho inserito un'altra sell, per il massimo di tre contratti, il prezzo poi effettivamente è arrispirato, perché eravamo in una fase di accesso clamorosa, perché eravamo oltre il 90% delle posizioni short, quindi poi c'è stato il rilascio, sulla rilascio della notizia della Banca Centrale Canadese, e poi sulla successiva news il giorno dopo, nei non farm payrolls, quindi il prezzo che cosa ha fatto? è salito sulla notizia del rilascio dei tassi della Banca Canadese, e poi sui non farm payrolls ha mollato il colpo, e quindi è ritornata su quei prezzi, io poi non ho chiuso, perché puntavo a un nuovo incrocio delle posizioni, vedete qui, guardate che scarico c'è stato da una situazione estrema, siamo andati in questa zona qui, io qui forse probabilmente molti di voi avrebbero chiuso le posizioni, io puntavo invece a un nuovo incrocio, che probabilmente ci sarà a breve, perché adesso siamo sul 79%, però stanno convergendo un po' queste due linee, e quindi mantengo la posizione, vediamo un po' che cosa succede, quindi Usticad, che poi invece l'ho presa anche su questo conto studio, e sono entrato il oggi, quindi anche su Usticad, proprio perché avevamo una situazione molto estrema, già anche oggi, e quindi vedete, le posizioni si stanno man mano, arrivando a una situazione di equilibrio. Poi, Audi, usdi, abbiamo l'83% long, e qui anche la situazione particolare, mi piacerebbe vederlo qui in questa zona, quindi sulla banda inferiore, delle bollinger, e vedere con che percentuale arriviamo, perché se qui arriviamo con un 90%, ci sono buone possibilità di, che si possa comunque poi provare, una operatività contrarian, e che cosa è sorto su Audi, una cosa molto interessante, che ho notato, è sul prezzo medio di carico, l'avevo accenato anche in chat, vediamo se l'operazione l'ho fatta qui, o da un'altra parte, perché io poi con diversi conti, non mi ricordo mai dove ho inserito le posizioni, donne, storico completo, e Odio di Odio di Odio di Odio di USD, eh no, era una sell, forse qui, ah che era qui era su questo perché questo è un ottimo caso studio e Antonio sul gold purtroppo non funziona non funziona i retail sono quasi posizionati sempre long sul gold proprio per i motivi che ho già spiegato nel precedente webinar allora Audi USD ho lavorato il primo incrocio su Audi USD quindi sell perché vedete che man mano i retail avevano aperto delle posizioni rialziste quindi io sono entrato short e quando ho visto ho tenuto questa posizione fino a quando ho visto una situazione interessante che si è creata sul prezzo medio di carico il prezzo medio di carico da dove si vede? si vede da qui vedete average long e average short attualmente quindi chi ha le posizioni dei retail su Audi USD ha il prezzo medio di carico a 73 e 38 quindi ce l'abbiamo molto lontano dal prezzo attuale mentre chi shorta sta shortando su proprieticamente su questi livelli perché siamo a 72 e 0,1 quindi se cambio ve lo scrivo 72 quindi io perché sono andato a togliermi la posizione perché ho visto che chi entrava short iniziava a entrare short proprio sui livelli di 72 e 0,1 e quindi mi sono detto io sono short anch'io però stanno entrando nuovi nuovi ribassisti proprio su questi livelli quindi su questo supporto è probabile che il prezzo possa respirare quindi è meglio uscire da questa posizione visto che comunque stava già guadagnando oltre 80 pips e su questo prezzo medio di carico ha fatto fatica comunque a rompere il supporto e quindi ho detto va bene comunque sono short le posizioni qui erano molto estreme se deve rimbalzare rimbalza da questo punto perché qual è la logica? La logica di fondo è che siccome la maggior parte dei retail troppo perde denaro sul forex ma sul training in generale probabilmente ha una view sbagliata su Audi USD perché se iniziano ad entrare short su questo livello molto probabilmente il livello il cambio va dall'altra parte proprio perché siamo anche in una situazione estrema in cui tutti naturalmente i rialzisti dei retail sono long e quindi si può creare una situazione estrema che potrebbe essere appunto lavorata a favore in realtà poi da 72 vedete che ha rimbalzato diverse volte ed è lì fermo lì che attualmente non ha nessuna direzione perché sta andando in laterale quindi questa situazione con il prezzo medio di carico può essere utile sia per uscire in una posizione se si è entrati in modalità sul primo incrocio quindi io come ad esempio Audi sono entrato short mantengo una posizione ok ma fino a quando e posso aiutarmi con il prezzo medio di carico quindi quando vedo che chi entra in ribasso è molto vicino al prezzo attuale allora si deve accendere il campanello dell'allarme che magari da lì si può avere un ritracciamento delle posizioni e quindi magari da una posizione estrema passiamo ad una situazione di equilibrio che poi è quella che si sta un po' verificando adesso su Audi Usdi allora datemi un cello in chat se è chiaro un po' il ragionamento così approfitto per bere un goccio d'acqua e ditemi anche cosa ne pensate così poi continuo con l'analisi allora nel frattempo che scrivete andiamo a analizzare anche Euro Sterlina perché Euro Sterlina è un altro ottimo caso allora Euro Sterlina anche qui vedete siamo arrivati in una situazione molto estrema fuori dalle Bollinger e siamo arrivati sostanzialmente eravamo in una zona del 90% e io sono entrato in quest'area non sono riuscito a prenderla in questa zona però qui eravamo intorno al 90% e ho deciso comunque di entrare e adesso stiamo vivendo comunque uno scarico delle posizioni e vediamo un po' se ritorna a salire oppure oppure no però comunque se c'era un punto dove si doveva comunque provare una vendita su Euro Sterlina era sicuramente in questa zona con le posizioni intorno al oltre al 90% poi Euro di Euro di niente nulla perché comunque vedete non abbiamo una situazione di sostanziale equilibrio siamo quasi al 60% qui c'è stato il primo incrocio in questa zona se la vedo al 60% comunque per il primo incrocio si può puntare magari a prendere di nuovo i massimi però non su Euro Audi era comunque già stata fatta un'operazione qui sull'eccesso perché vedete qui c'era stato un eccesso sull'indicatore eravamo oltre il 90% dei rialzisti era stata fatta un'ottima operazione sempre in quest'area qui comunque se notate il setup è quasi sempre identico cioè si arriva in una situazione di eccesso e il prezzo il più delle volte si trova fuori dalle bollinger quindi in modalità contrarian si entra quando si deve cercare un setup quando il prezzo si trova fuori dalle bollinger e abbiamo una situazione di eccesso quindi oltre l'80% da una parte o dall'altra Eurofranco anche qui stessa cosa Eurofranco poi ovviamente so che molti di voi magari lo stanno utilizzando anche con le divergenze non so se c'è in chat Massimiliano ma so che lui utilizza le divergenze o altri comunque indicatori e ovviamente non è legge che si debba entrare per forza su sulle bollinger oppure no però almeno darsi comunque una regola e aspettare sempre l'eccesso superiore all'80% quello che ho fatto anche su Eurofranco Eurofranco anche un'altra bellissima operazione il prezzo vedete è uscito fuori dalle bollinger è aumentato molto con i rialzisti oltre il 90% e poi abbiamo scaricato sono scaricate queste posizioni fino ad arrivare all'incrocio quindi adesso vedete che come stanno entrando nuovi ribassisti quindi nuovi ribassisti questa posizione qui sarebbe bello quindi portarla fino al prossimo eccesso magari dei ribassisti se arriviamo che ne so in questa zona con un 90% dei ribassisti vado a chiudere a questa posizione addirittura potrei poi pensare di andare short se ci sono ovviamente le condizioni Eurofranco Eurofranco come si scarica io non riesco a farlo funzionare l'indomar non riesce a seguire il webinar e allora la versione è beta di MyFxbook però voi potete se non riuscite poi a scaricarlo andate dal community outlook di MyFxbook e qui c'è questo messaggio ci cliccate sopra e si apre questa sezione poi dovete cliccare su try for free e da lì puoi fare il download il problema qual è che nel precedente webinar io ho fatto vedere la procedura adesso rifarla è un po' complicato però siccome i webinar ci sono e sono tutti registrati prendetevi un attimo di tempo e l'ho fatto vedere all'inizio del webinar come installarlo e il grosso problema che dà MyFxbook in questo momento è che anche se inserite qui la la chi qui dovete inserire il prada chi altrimenti non non ve lo accetta è il prada chi lo trovate qui lo trovate dove la pagina di prima è questo ok quindi dovete inserire questa stringa la dovete inserire qui nel campo chi e poi premere ok e vi appare questa funzione poi se vi dà altri bug purtroppo quelli sono un po' fuori dal mio controllo perché ovviamente MyFxbook è un sito esterno quindi questo indicatore è stato lanciato da poco in versione beta quindi vedete molto probabilmente a breve lo metteranno a pagamento quindi poi forse bisogna aspettare quello a pagamento comunque se non volete se non o se non volete oppure non riuscite a scaricarlo vi basta anche la schermata principale perché comunque del community outlook perché ci sono le stesse informazioni dovete solo stare attenti a fare una cosa se usate chrome perché praticamente questa la il grafico non compare se avete inserito in chrome il blocco del flash ok quindi dovete cliccare su consenti altrimenti non vi fa vedere il il grafico ok perché se ad esempio fate così e fate ricarica perché quando aprite chrome siccome il flash è molto pesante chrome l'ha disabilitato di default quindi vedete voi vedete questa situazione qui mentre se cliccate sul su questo lucchetto vedete vicino all'indirizzo poi fate su flash consenti cliccate su ricarica e compare quindi sia avete sia il grafico in questo caso euro dollaro poi potete avere anche altre informazioni su chi da dove stanno comprando euro dollaro quali sono i paesi più esposti queste cose qui si carine da vedere però non so vedete i russi ad esempio sono long con con 9000 contratti no scusate con 303 lotti 9000 posizioni tipo in Italia sono long con 63 lotti 720 posizioni vi da queste informazioni visto che comunque my facebook lavora a livello globale e ha praticamente quasi tutti i broker sulla piazza sul mercato forex quindi molto carino sicuramente anche da vedere però per le analisi vi basta con quell'indicatore quindi se non riuscite a scaricare da qui ve lo scaricate dal lo avevo andato a vedere direttamente dal sito allora euro yen euro yen a me piacerebbe lavorarlo in long non so cosa cosa ne pensate perché siamo sul primo incrocio short e c'è questa resistenza che potrebbe essere colpita l'unico problema su euro yen è che graficamente non mi fa impazzire perché si trova sulla parte superiore mentre sarebbe magari meglio aspettarselo sulla parte mediana della bollinger quindi in questa situazione qui quindi in questo caso magari io mi metto solo un alert e poi vado a vedere un po' come è messo euro yen con le posizioni in questa zona perché secondo me adesso non perché è un'analisi perché l'analisi personale può lasciare un po' il tempo che trova però sempre seguendo questa logica siccome c'è il 71% short e abbiamo questo livello di stop la logica qual è che chi è entrato short magari ha gli stop qua sopra in quest'area qui e quindi magari il prezzo visto che comunque il retail purtroppo la maggior parte perde quindi questi stop qui magari vengono presi dal prezzo e quindi potrebbe essere una situazione da lavorare in long discorso inverso invece se ci fosse stata una situazione estrema quindi un 90% di euro yen in quel caso avrei puntato su un ritorno da quell'eccesso però attualmente non si fa nulla se non mettere l'alert e anche GPP CHF è stato molto bello come cross e queste situazioni comunque vanno studiate sono molto interessanti perché il setup lo sto anche voi dagli esempi che dalle analisi che sto proponendo che si presenta sempre lo stesso pattern quindi fuori dalle bollinger arriviamo con una situazione estrema delle posizioni quindi da qui si può provare un rialzo allora io vi dico in maniera molto onesta che a volte quando vedo una situazione estrema nel 90% io non vado a cercarmi il setup perfetto cioè non mi interessa andarlo a cercare con le divergenze o altri setup fatti ad hoc per trovare l'entrata giusta però perché comunque sia perché comunque è un progetto che voglio monitorare statisticamente ma è un qualcosa che secondo me ha senso ma fino a un certo punto perché se comunque si deve si deve passare da una situazione di accesso a una situazione di equilibrio magari andarsi a trovare il pattern perfetto può essere un deterrente perché vi fa magari entrare in ritardo la cosa secondo me che si può fare in queste situazioni e guardarsi il prezzo medio di carico perché ad esempio su gpb chf aspettate perché questo forse non è l'esempio meno calzante no vi volevo far vedere un'altra cosa ma non su gp chf quindi per il momento accantonate l'idea del prezzo medio di carico però quello che volevo dire è che magari anche quando c'è questa situazione estrema vedete come il prezzo ha fatto una grossa candela di volatilità e qui sono entrati la maggior parte dei trade del retail long vedete e siamo arrivati in una situazione di eccesso ma secondo voi quanto può durare una situazione di eccesso perché dal 90 io attualmente ancora non ho visto situazioni del 100% in una direzione piuttosto che in un'altra quindi molto probabilmente si può pensare di entrare su questi supporti perché le situazioni ritornano alla normalità quando bisogna allarmarsi bisogna allarmarsi quando si entra in questa situazione le posizioni retail long scendono ma il prezzo rimane lì quindi in quel caso significa che si sta soltanto ricaricando e bisogna fare attenzione perché altrimenti può partire in una seconda ondata ribassista però vedete dovete farlo anche voi cioè io qui non è che vi sto insegnando qualcosa io sto ragionando insieme a voi quindi se voi avete anche idee migliori o comunque setup più precisi ditemelo non state lì soltanto ad ascoltare senza proporre nulla perché comunque questo è uno studio che io sto proponendo in maniera molto trasparente quindi se c'è l'aiuto da parte di tutti è un qualcosa utile appunto per tutti però vedete come ripeto questo pattern si ripete spesso si è ripetuto praticamente su quasi tutte quelle valute in eccesso che abbiamo visto quindi ditemi anche le vostre osservazioni perché so che lo state utilizzando mi scrivete in privato quindi non non siate timidi cioè perché queste sono informazioni molto interessanti cioè questo studio si sta rivelando molto interessante quindi merita approfondimenti però più occhi sono meglio di due perché ovviamente io magari sono convinto delle mie dei miei studi sul training quindi molte cose magari le vado a sottovalutare quindi magari non sono non sono corrette però magari qualcuno di voi che più può essere anche più esperto del sottoscritto magari vede qualcosa e può essere di aiuto allora anche qui vedete cadde ien guardate che situazione estrema e troviamo sempre lo stesso pattern quindi questo qui il discorso qual è? che non c'è repente in questo indicatore perché voi il primo filtro che dovete vedere è questo e quando trovate una situazione di 90% significa che queste posizioni qui questa situazione noi siamo al 90% minimo e quindi bisogna andarsi a cercare il setup che poi entriate come me che magari non lo fa in maniera molto molto precisa perché magari io basta che vedo un ritracciamento dentro proprio perché sono sia perché sono sites ridicole sia perché comunque appunto ripeto voglio andarmi a fare soltanto uno studio però chi di voi magari ci vuole fare il training seriamente può cercare i propri setup può andare a utilizzare i propri setup operativi solo in determinate situazioni quindi vedete questo ribasso qui io sono convinto che molti magari entrano in questa situazione qui perché vedono che c'è c'è questo supporto e dicono magari questo supporto resiste però dal filtro retail vedete che questa situazione qui siamo ancora in una situazione abbastanza piatta quindi magari qui forse è meglio andare short che long la stessa situazione qui la stessa situazione qui quando si arriva in questa zona che è il 90% allora magari cercarsi il setup che può essere c'è una falsa rottura del supporto aspetto che rientri che ne so col proprio indicatore c'è una divergenza o quant'altro adesso per curiosità voglio mettermi un indicatore com'era l'indicatore quello delle divergenze non mi ricordo il nome se me lo scrivete un attimo in chat ho qua le indicatori per le divergenze utilizzate ah grazie massimiliano era questo 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 è l'indicatore che utilizza adesso me l'ha messo sui retell vabbè vediamo che ne so vedete comunque il setup c'è per chi utilizza le divergenze perché giusto massimiliano eh correggimi se sbaglio perché io non sono un espertissimo però il prezzo scende l'indicatore l'oscillatore comunque non fa nuovi minimi quindi qui io ho due già ho due elementi che mi fanno mi danno comunque l'ok per provare un long perché se non lo provo con il 90% long con una divergenza io qui posso entrare magari non entro qui aspetto che arrivata sul supporto e entro in questa zona però comunque un setup si può cercare in questa situazione io vi dico se avessi trovato questa situazione al 90% sarei entrato probabilmente in questa zona qui conoscendomi io sarei entrato un po' in questa zona quindi poi avrei preso un drawdown di circa 30 pips che sono un po' le variazioni che sto facendo qui non sto andando un po' che cos'era card yen e infatti vedete è quella operazione lì non la ricordavo nemmeno sono entrato in quella zona proprio perché c'era un livello estremo quindi questa qui la metto a pari e vediamo se ci sarà poi un nuovo sviluppo su questa posizione qui allora ah una cosa che vi dico se andate a scaricarvi l'indicatore non fate come me che ve lo mettete su 10.000 strumenti perché altrimenti poi si si blocca perché sto notando che è molto lento quindi magari andate soltanto a a vedere grafico per grafico allora gpbdn questa è anche bella questa è anche bella perché siamo sul primo incrocio 67% short quindi primo incrocio bisogna trovare un setup che setup realzisti cioè trend following voi usate se con le incontrarie magari è facile con le divergenze mentre sul mi piacerebbe sapere che tipo di setup utilizzate per entrare in direzione del trend intanto leggo un po' di domande sembra che ci siano alcune valute che ricalcolano federalmente le linee dell'indicatore si Gianfranco lo sto notando anch'io che ci sono molte situazioni interessanti notato che su un time frame m15 quando si raggiungono le bande di bolliger tarate con una media a 63 deviazioni standard il prezzo di traccia quasi sempre limite stop su 3.5 di deviazione ok quindi sul 15 minuti è un po' troppo breve è un po' troppo veloce per me Roberto però credo che comunque anche su altri time frame si possa come visto sull'H1 trovare delle situazioni allora io qui su euro su gpb yen ci potrebbe essere un setup rialzista perché siamo sul primo incrocio vediamo un po' gpb yen qui allora buy euro yen usd chf questo lo voglio un attimo monitorare quindi magari faccio l'entrata no perché non so cosa ne pensiate però magari va a farsi un pullback qui questa zona che ha rotto quindi voglio mettere un buy limit in questa zona e vediamo poi mercoledì prossimo che è l'ultima sessione dell'anno a proposito vi piacciono queste sessioni operative vi piacerebbe rifarle anche all'anno nuovo oppure no ditemi per favore cosa ne pensate così così poi lo ripropongo a tic mil sicuramente sì ottimo molto molto ok io lo sto abbinando alla mia strategia in trend following in un buon filtro a favore di super trend 24 per ive multificatore 4 con super trend questo è un indicatore che piace molto anche a salvatore però purtroppo il super trend qui non ce l'ho vediamo se c'è no il super trend è qualcosa che ci avevo pensato anch'io di utilizzare per trovare il filtro su un filtro rialzista però qui non ce l'ho super trend 24 periodi io l'ho sempre utilizzato il 10 periodi il classico sostanza moltiplicatore 4 iper venduto del williams range 12 periodi vediamo il williams non ce l'ho però il prossimo nel prossimo webinar se ci sei purtroppo non c'è il tuo nome però se ci sei lo facciamo col super trend perché mi interessa capire un po' allora dove è il percent bill williams no in ogni williams percent e questo 12 periodi il williams solo per il timing cioè lo aspetti qui sostanzialmente per entrare cioè se lo vedi a meno 80 il super trend magari ti dice rialzo quindi verde tu entri perché ti vai a lavorare un po' uno swing in questa situazione cioè aspetti che arrivi qui e poi magari questo è il super trend ti dice che è a rialzo magari che ne so questo sbagliato magari che ne so lo trovi qui ecco magari lo trovi in questa situazione con il prezzo che arriva qui quindi il williams percent che si è scaricato e vai a cercarti il rialzo può essere una buona strategia questa qui poi la approfondiamo la prossima mi devo scaricare solo un super trend il CCI tarato però a me non è mai piaciuto il CCI non so perché però vedo che molti di voi lo utilizzano ma quindi tu Roberto lo vai a lavorare sul sul daily perché Roberto mi scrive io lo utilizzo su 14 periodi ci dice di entrare su GPB perché sta superando i meno 100 dal basso quindi per lui è long perché il CCI dove che è il commodity channel index 14 periodi sul daily ok perché sta superando la soglia di meno 100 di meno 100 ok che poi è un po' anche quello che ci dice il win-up percent se è usato in modalità classica cioè di andarsi a cercare ipercomprato e ipervenduto ok interessante ma ritolgo perché mi rallentano parecchio le piattaforme ok quindi vediamo se c'è qualche altra situazione ce ne sono tante ma è un po' veloce perché vediamo se c'è solo qualche situazione di eh vedete anche qui OD NZD sempre lo stesso pattern AD CHF che qui dovrei andare short ma già ho fatto troppe operazioni sul primo voglio trovare qualcosa di estremo ancora non c'è euro NZD 73 euro CAD no CAD NZD eh ecco NZD Yen monitorato anche nei prossimi giorni perché siamo al 79% short quindi bisogna capire un po' in che situazione arriva qui sotto non c'è nulla no Dpb AUD è il primo incrocio no però già sono entrato sugli altri e vediamo un po' poi la prossima che cosa che cosa ci dà quindi monitoratelo sempre venite in chat telegram perché da lì poi le eseguiamo ogni giorno e vediamo se mantiene un po' questa eh questa situazione quindi attualmente su questa allora sono operativo quindi su SDCAD voglio solo vedere se mi sono ricordato di mettere gli stop allora SDCAD quindi SDCAD short lo lascio così perché vediamo se vanno verso l'incrocio le posizioni allora poi magari la vado a chiudere euro gpb anche qui stessa cosa euro franco quella che attualmente mi piace di più vediamo su euro franco vediamo se arriva in questa zona qui perché magari in questa zona arriviamo pieni di di short ok va bene allora vedete questo invece sul 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 sistema antigriglia che cosa ha fatto sul minuto si è andato ad aprire le sell si è aperto 3 sell e sostanzialmente 3 buy qual è il gioco che voglio fare con questo expert che attualmente non sta pagando come mi aspettavo però secondo me ha buone potenzialità è quello di farlo che quando arriveranno poi in situazione di stop mi vado a gestire le posizioni che sono in guadagno magari allora facciamo il caso che queste posizioni del in buy che sono state aperte vadano in stop in questa in quest'area quindi che scenario avrò quando andranno in stop avrò 3 stop sulle buy e 3 sell in guadagno quindi su quelle su quelle 3 sell in guadagno dovrò andare poi a cercare di recuperare ovviamente la parte della perdita delle 3 buy quindi magari se rimangono 3 sell posso decidere 2 sell di di lavorarle in training stop quindi da qui che distanza c'è sono 85 pips metterò un training stop di 85 pips sperando che poi il prezzo vada ancora a ribasso e un'altra la lascio per farla correre fino a quando poi le posizioni sul cot report vanno un po' a cambiare è un po' un work in progress questo tipo di sistema che poi magari se appena ho dei risultati più attendibili mi metto un po' di più e ve lo spiego come si deve però se tanto volete iniziare a giocarci con questo expert quindi mi interessa un po' iniziarlo a conoscere poi fatemi sapere così me lo mando senza problemi ok allora se non avete altre domande o curiosità io posso chiudere il webinar e vi do appuntamento al prossimo che è mercoledì l'ultimo dell'anno visto che comunque ha avuto feedback positivi quasi sicuramente poi ne farò altri non so se il mercoledì vediamo un po' un orario o un giorno poi deciderò con calma va bene grazie a tutti allora vi auguro una buona serata grazie a tutti